Buongiorno, benvenuti, benvenuti ragazzi Oggi come vedete mi sono fatto barba, mi sono fatto di barba No, non mi sono fatto di barba, perché sennò sembra un'altra cosa Mi sono tagliato la barba, era anche l'ora Insomma, era un po' Oddio, ho scoperto un hack ragazzi Adesso vi faccio vedere Guardate che hack, se io mi metto così posso vedere? Si vede il regalo del giorno accanto Se non si apisce cosa sia, però insomma si vede Va bene dai, senza inducere troppo Andiamo a prendere il regalo di oggi Oggi è il giorno 16 Buon sedicesimo giorno dell'avvento Eccolo qua il 16 No, di nuovo, basta, basta Basta, non li voglio più, questi Guarda quanti si vede i dettagli della Eh vabbè, così è troppo vicino I dettagli della stampa si vedono Io non ne posso più di questi kinder mini Basta, basta Io vi giuro che adesso lo prendo e lo butto dalla finestra Non scherzo, dai, non si butta via il cibo Eh, se si può considerare il cibo Insomma Faccio vedere la bici Bella contettezza di Kinder Che cosa c'è da vedere? Che perché è il salcio? Si è buono, l'utilizzo sempre però È un po' bassa Ah, così sembra un videogioco Infatti avevo fatto buggy world Se non l'avete visto Cercate merendine e salami francesi Su youtube ci sono dei video Si chiamano buggy world Poi facevo questa cosa Faccio finta di essere in un videogioco Però guarda che figo Cioè così si vede anche meglio Se la fotocamina è il migliore Del mio vecchio telefono Per chi non lo sa Se sto riuscendo ad un S20 Vabbè, basta Mi sono rotto le palle Bene, finisco qua il video Ciao Ciao a tutti Ciao